Abbiamo chiesto in giro. La gente rimane perplessa quando pensa ad un marciapiede con illuminazione notturna per il cimitero. Opera che poteva essere richiesta 30 anni fa, mentre oggi si va con l'auto a trovare i defunti sia nel mese dei morti che durante l'arco dell'anno. L'idea del marciapiede Paolo Cartechini l'ha sempre avuta. Sembra che lo avesse proposto alla provincia, ma la richiesta fu bocciata. Spesso si fanno dei referendum onde avere una conferma sull'opportunità o meno di realizzare un'opera. Nessun referendum è stato però fatto per sapere l'opinione della gente su questo marciapiede. Quindi vengono spesi 410.000 euro a Capocchia. Non sarebbe stato meglio se si fosse ampliato il parcheggio delle auto? Un tempo si era pensato di fare uno stradello sopraelevato parallelo alla provinciale via Zegalara. Dal cimitero a via della Portarella. Proposta senza senso pure questa, dato che 410.000 euro sarebbero potuti essere spesi meglio, almeno per il marciapiede dissestato di Viale Montolmo, che è la strada frequentata dai cittadini per andare a piedi al cimitero. Il pericolo per i pedoni esiste sempre su queste strisce pedonali. Perché non pensare ad un sottopassaggio o ad un cavalcavia con l'allegra finanza dell'amministrazione Cartechini? Grazie a tutti.